Rai che è caduto a peso morto così Ma voi sapete di cosa stiamo parlando? Perché io non so che cazzo sia, cioè ho visto dei video ma non l'ho mai seguito Io ho giocato, perché forse Inter giustamente mi ha appena seguito, ma tutti gli altri lo sanno Ho giocato in Serie B a calcio a 5, al Bresso a Milano Questo è quello che ha barato e ha vinto contro Gilberto illegalmente E fratino non so chi ha sfidato Comunque la vittoria se la meritava lui, io l'ho visto giocare in tutte le partite Questo è un cazzo di mostro, ti corre addosso, ti spaventi con quelle gambe che sono enormi Io ho visto video suoi che lui si incazza un bordello, ma secondo me l'arbitro ce l'ha con lui Perché gli fischiavano falli che non erano veri L'unica clip che ho visto è Gilberto contro Luca e Gilberto contro questo tipo qui Avrei vinto Guardando il livello, forse solo Gilberto poteva battermi Anche perché tutto fisico gioca lui Però scusa, perché loro dicono il pallone d'oro di TikTok Italia non è vero Pallone d'oro di gente che voi avete deciso Pallone d'oro, pirla, sv Non è giusto dire TikTok Italia, è sbagliato Perché ci sono tanti che non sono neanche mai stati invitati Ci sono quelli che intratteggono col calcio e che piacciono Beh ma anche tipo Davide Pisani fa sta roba Campione mondiale di calcio freestyle e ha 100.000 follower su Instagram Non l'hanno proprio cagato Dodag Lady ad esempio, un altro ragazzo che ha 180.000 follower Sono troppo pochi 180.000 su TikTok Quindi lì allora non sei considerato? C'è questo che volevo sapere, se c'è un limite che devi avere L'arbitro fa schifo proprio Sì, quello è l'unica cosa che avevo capito di tutto sto pallone d'oro Se ti avessero invitato facevi wall run nelle pareti Se mi avessero invitato avrei vinto senza fare neanche un flip Se mi dovessero mai invitare a fare qualcosa Io vi giuro che cercherò di flippare il meno possibile Piuttosto faccio parkour, mi arrampico sulle cose, va bene Ma flip zero Perché non voglio far passare il concetto che il parkour sono le capriole Se vinco e tutto, forse Comunque quelli che invitano gli suggeriscono i fan Cazzo ditemelo prima, la prossima volta spammiamoci La prossima volta ti spammiamo finché non ci bannano Come ha fatto Lollo, va bene ci sta Ci sarà anche quello di Twitch Ma Twitch non c'è nessuno che porta calcio su Twitch Che palle dai, quindi ho perso la mia unica occasione Io sono conosciuto solo su TikTok 200k bastano Eh ma ormai TikTok è andata Io ho mille follower su Twitch Voglio fare quella di Twitch, cazzo Come si faceva a partecipare a sta roba? Cioè io come senza di voi, come avrei saputo Stefano, io non è che racconto palle Io davvero giocavo in Serie B a calcio A5 nel Bresso La stagione 2015-2016 ho giocato Che è stato esattamente lo stesso anno quando ho iniziato a fare parkour Quindi anch'io so giocare bro Perché hai lasciato calcio A5 in Serie B per andare a fare parkour Soldoni perché non guadagnavi niente In Serie B non guadagni un cazzo Ma neanche in Serie A dei calcio A5 Fratino si è buttato 4-5 ma io ho capito com'è il mood di questo gioco Allora Fratino ha le mani dietro la schiena Mani dietro la schiena è automaticamente fallo Nel gioco del calcio Calcio A11, calcio A7 Se tu hai le mani dietro la schiena dell'avversario E quindi non larghe fallo ora del tipo con la maglietta nera Perché ha la mano sulla sua spalla Lui ha le mani larghe Le mani larghe non è fallo Se tu tieni le mani larghe non è fallo Fratino ha la mano sulla spalla La mano destra sulla spalla sinistra di quello con la maglietta gialla Quindi per ora è fallo di quello con la maglietta nera Non gli ha fatto niente con i piedi Ecco forse Allora io sono una persona molto sincera Vabbè per chi mi conosce già lo sa Forse mi darebbe parecchio fastidio Vedere la gente che fa le simulazioni Si lancia per terra Quindi effettivamente mi darebbe parecchio fastidio Partecipare a una roba del genere Ha sbagliato tasto Ha fatto la simulazione Un tempo su FIFA c'era il tasto per fare la simulazione Comunque non ha fatto niente Cioè proprio si è lanciato quello con la maglietta nera Infatti ride il tipo con la maglietta gialla Arbitro Iniziamo già Ma che è questo? Ma chi cazzo è questo? Raga per favore ditemelo Ditemi che anche lui è famoso E vaffanculo Vado in giro a urlare A fare le cose peggio Cioè se sta gente Vabbè Ha credibilità Quindi lì lo stavano prendendo per il culo E' un vero arbitro di Non ci credo davvero raga E' famoso purtroppo Ma ha ragione il Sergio raga Lui ha messo il braccio Braccia larghe non è fa Ma questo è un arbitro di serie A? Ah ok non è un arbitro di serie A Un arbitro di calcio 11 Per gli scappati da casa detenuti Immagino Terza categoria Però scusa Cioè Se lo fa di lavoro Si è sputtanato la carriera Cioè lo guarda uno Nella categoria 3 Dice questo non lo faccia arbitrare Per quello che ho visto Mi ricordo che Gilbert Pigliava un sacco di falli Che non c'erano Meglio almeno la gente Sa come burtarsi Quando arbitra lui In categoria 3 Tutti a lanciarsi Vedi è in vantaggio moralmente Sai perché l'ha detto? Perché anche lui lo sa Che l'arbitro è malato Fischia a caso Si vede che Sergio è bravo Ma chi è quella? Oh cazzo così Così dal nulla Tra l'altro Tiro di punta Classico tiro di calcio a 5 Ma hanno messo le musiche dei Pokémon Quando si sfidano Sergio giocava in terza categoria Nel calcio a Dungi Dici quindi è davvero bravo Stefano Se è bravo Come l'arbitro Che arbitra in terza categoria Si è messi bene Ah ma lei era Ma chi è quello? Ma questo fa gol solo di tunnel Subito dopo che ha subito un gol Comunque Vedete come si mette fratino Anch'io quando giocavo a calcio a 5 Difendevo sempre così Però con le gambe più aperte Non ci passava il pallone Però le gambe più aperte Ecco ci fosse stato fratino Si sarebbe lanciato per terra Ah si sta incazzando Sapete che stavo per dire Io avrei fatto così Tra l'altro raga Hanno i microfoni questi Della DJI Sapete quanto cazzo costano? Costano 200 euro Porco diga Dateli a me Andavo a partecipare Solo per rubarne uno Ma chi è quello? Ha 35 anni Sergio È più vecchio di me Beh comunque Cioè allora Si vede che Sergio è professionista È fratino Non ho scappato di casa O sbaglio? Ma fratino è un maranza Non ho capito Chi è? Ma chi è questo? Raga ma chi è tutta sta gente? Non so chi siano Quello che ha messo la palla in gioco È quello che porta le birre Raga mi devo cagare Tunnel Cade Madonna Madonna Comunque io sarei impazzito Fossi stato in Sergio Sarei impazzito L'arbitro è uno scappato di casa Neanche lui sa cosa fare Ha fischiato perché uno era per terra Ha ragione Sergio Ha ragione Sergio L'abbiamo preso apposta Dove l'avete preso Nelle sorpresine Kinder Cioè deve avere i consigli Del telecronista Quando mai Un Io non ci credo La gente cerca di fare le cose serie E poi finiscono Tutte estroiate Vabbè dai ok Guardiamo la bar Ma bro sei l'arbitro Raga io ho giocato a calcio a 5 Quindi le so le regole del calcio Vi dico quello che penso Fratino ha lo sponsor con Red Bull Perché mette le ali Allora qui Che lui va Fratino lo passa Gli sta mettendo le mani davanti al corpo Quindi potrebbe essere fallo Io non vedo dall'altra parte Mi servirebbe l'inquadratura dall'altra Io non sono un arbitro Ho solo giocato a calcio Però bisogna vedere se queste mani sono davanti alla pancia Se sono davanti alla pancia E la mano sinistra Lo sta tenendo A fratino Allora si è fallo È fallo qui però Se lui ha la mano sinistra Sopra la spalla Di fratino È fallo Raga per le regole del calcio Per quanto io ho giocato a calcio 7 anni E un anno in serie B Questo è fallo Eh sì Eh sì è fallo Lui si è buttato Ma è fallo Quello di prima però Era fallo di simulazione Di fratino Il problema è questo Se l'arbitro non dà il giallo Di simulazione Fratino Si butterà sempre Tutta la partita E la finale sarà fratino Che fa i tuffi Ora non so cosa decidere All'arbitro Raga mi spezza Se dice che non è fallo Perché il primo Che non lo era L'ha fatto Ho capito Però se lui è in corsa Guarda che l'accompagna Guarda che l'accompagna L'ho capito Può essere anche sbilanciato Ma dalla dinamica Si capisce anche che tu lo affondi Che fischio Ma perché non tirano con la suola Teo ma chi tifi Ma dici in questa partita In verità non conosco nessuno E Sergio mi stava sul cazzo Perché sapevo che aveva vinto contro Gilbert Perché l'arbitro non sa arbitrare Io tifo contro l'arbitro Spero che cambino l'arbitro Per il prossimo anno O per Twitch Che andremo a partecipare Raga L'ho preso al volo Pirla SV Questo mi vale l'entrata al Al torneo di Twitch Italia Preso al volo Qua entrano cani e porci Ho capito Ma è un grande questo Comunque lo pronunci male Pirla SV Non Pirla SV Ah Continuano a chiamarlo Pirla SV Non credo che cambieranno arbitro Perché la gente è deficiente E non capisce che non sa arbitrare No dai ma Cioè Credo che tutti l'abbiano capito Che lui non sa arbitrare Cioè nessuno ha ancora fatto Un meme su quell'arbitro Cazzo tutti che criticano E giudicano tutti Ma nessuno che ha mai Criticato quell'arbitro Non ci credo Dai hanno fatto mille reaction Sono sicuro che Blur Gianmarco Tocco Gli ne avrà dette un sacco Cioè se lui davvero Blur Sa giocare a calcio Ha mai giocato a calcio Sa che quell'arbitro Ha fatto delle troiate enormi Come si chiama questo Samuel Lo amo Bello questo salvataggio Di Sergio Questo era fallo Però eh Qua c'è fallo Oddio magari no eh Però mi sembrava di sì Vedi che Scusa me Scusate Quanto bene posso volergli a Sergio Cioè fisso la mano destra Sulla sua spalla Non puoi toccare l'avversario Sergio Cruz Il nuovo Ramos Qui Questa mano Questa mano sul petto dell'altro Questo è fallo Però se hai l'arbitro di serie A Categoria Terza categoria Eccetera Scusa Dovevi fermare e dire No questo è fallo Vedi qua Stanno facendo tutti fallo Sergio lo sta tenendo dietro con le mani Non si può tenere dietro con le mani E Sergio si è lanciato Perché? Perché si è lanciato fratino Se adesso fischia fallo per Sergio Ho capito Che arbitro è Perché questo non è fallo per Sergio E' Sergio che si è lanciato Fratino non ha fatto nulla Raga questo assolutamente È simulazione di Sergio Ma perché? Sergio l'ha capito Perché al primo fallo Che ha fischiato Era simulazione di fratino Sergio ha capito Che se ti lanci per terra Ti dà il fallo Ogni volta che parla Quel tipo mi fa spezzare Fallo normale E fallo in favore di Sergio E fallo in favore di Sergio Ma dove? Pov I pirla sv Quando vedo un arbitro In sconto Su Alix Express Raga vengo io ad arbitrare Porco di eagle Non mi fate giocare Non mi fate partecipare Anche se ho 200.000 follower Vengo ad arbitrare No però è vero Adesso sembra che sono un hater Che è hatera Perché non sono andato a partecipare Perché non sapevo Dell'esistenza di questa roba Però non è fallo Guarda Guarda È lui che con la mano destra Appoggiata Sulla ciccia di fratino Lo tiene dietro Fratino non gli ha toccato le spalle Non gli ha toccato niente Ha le mani larghe E quando lui si è lanciato per cadere Ha appoggiato la mano Per spingerlo giù O comunque L'ha toccato Effettivamente se non l'avesse toccato E avesse tenuto sempre le braccia larghe Perché comunque raga Una cosa dovete pensare Quando giocate a calcio Per tutti gli anni che ci ho giocato Mi hanno fatto una testa grossa così Braccia larghe Succede qualcosa Braccia larghe Ti insultano la madre Braccia larghe Ti arriva la palla nelle palle Braccia larghe Il tipo ti arriva con un calcio in faccia Braccia larghe Braccia larghe non ti fischieranno mai un fallo Se tu tutto il tempo sei così Non ti possono fischiare fallo Se ti cade davanti Perché Fa la simulazione E tu sei così Se ti fischia fallo Sei autorizzato a tirare una testata all'arbitro E infatti Fratino è stato tutto il tempo così Tranne alla fine Che quando è caduto La mano l'ha lasciata appoggiata Poi ovviamente noi abbiamo il video Possiamo metterlo in 0,25 Eccetera Quindi possiamo capirlo meglio Però Cazzo se sei un arbitro che è Serio Lo dovresti capire Vedere senza Il replay Noi non abbiamo studiato per fare gli arbitri Lo vediamo dal replay Tu hai studiato Quindi lo dovresti vedere dal vivo O no Tirato la maglia Fallo Sergio ha tirato la maglia A fratino Se adesso fratino cade Gli dà il fallo Se non cade Non gli dà il fallo Gioca gioca Perché non è caduto Se cadeva Gli dà il fallo Ho capito cosa devo fare Se vado a sto coso Lanciarmi per terra Ogni volta che ti toccano Fai dive roll Raga Sì fisso Solo per il meme No bello sto gol Ma poi Anche sta cosa Non ha fischiato fallo Perché è palla tua Ma se avesse fischiato fallo Era il secondo Ed era rigore Raga è caduto a peso morto Così Che comunque Non avrebbe fischiato fallo Se fratino Non si fosse buttato È svenuto il bro Ma no Ma perché ha capito Che l'arbitro Fischia solo se cadi Mamma mia Vedi Questo è un brutto fallo Se non cadeva Non gli fischiare Ma un cazzo Il miglior arbitro Di Youtube Italia È l'unico arbitro Di Youtube Italia Ma secondo me Lo perculano un bordello Non c'è nessuno Non c'è nessuno Già È niente È pronto Gilbert Dalio rossa Dalio rossa Gilbert Ne capisce più di arbitrina Cioè adesso Scusami Adesso il bro Gli ha tirato un calcio Sul piede Questo è fallo Però lui Ho capito In pratica Vabbè Inutile ripeterlo Arbitrino Fischia Se cadi Se non cadi Non è fallo Quindi si buttano tutti E ora ho capito Perché Gilbert Non è in finale Perché non è uno Che si tuffa Guarda Sergio sposta la palla E lui gli tira un calcio Questo è fallo Questo è fallo Se vuoi fare l'arbitro Di serie A E terza categoria Eccetera Meglio così Se vai tu Sai come vincere Eh no raga Ho solo 200.000 follower Non sono nessuno Basta che i fan Spammano nei commenti Delle qualificazioni Minchia raga Allora ci organizziamo Voglio partecipare Porca puttana Solo per Raga voglio partecipare E fare Le simulazioni In flip Faccio i flip Mentre cado Unico e peggior arbitro Della storia Dei social Raga se davvero Devono fare Twitch Italia Palone d'oro Di Twitch Italia Raga se vado a partecipare Perché avete spammato Vi regalo la sub O perché avete detto Ai vostri amici Di spammare Vi pago la sub Bello Beh meritato comunque Come ti chiami su TikTok Che ti faccio Una sponsor Dai Teo.parkour E ho 188 Virgola 7 mila follower Ne mancano Mannaggia a voi 11 mila Ma quanti cazzo erano C'è pure questa Che parla in corsivo E No raga No ecco Sta cosa non va bene Scusate C'era il rosso Parcour Grazie per la sub C'era il rosso Che ha Meno follower di me Fammi vedere Se c'ha meno follower di me Il rosso su TikTok Mi sa che ne ha di più ora Bro ha 300 mila follower Dai 360 mila follower Potevo partecipare anch'io allora Porca puttana Gilbert se lo meritava Che faccia Che faccia fa Guardalo Guardalo Ma è un meme Ma chi è Samu È un meme Questo ragazzo È un grande Lo amo L'amicizia Gilbert dice Ma che cazzo sta a dire Questo Que cazzo sta呢 L'amicizia Che faccia fa Io Ciao Che faccia fa